Nella notte le ruspe hanno iniziato a lavorare e questa mattina rimaneva solo qualche rudere dell'hotel Villa Lidia, chiuso da tempo. Si è aperto, dopo la firma degli accordi con il Comune, il cantiere per la realizzazione del nuovo supermercato Lidl tra Via Lezzari e Corso Europa a Pallanza. L'intervento notturno, che ha richiesto il restringimento della carreggiata stradale, ha permesso di evitare disagi per il traffico. Resterà comunque aperto, come previsto dalla convenzione siglata con l'amministrazione comunale, l'attuale punto vendita di Suna, seppur ridotto, per garantire il servizio alla frazione che è attualmente sprovvista di altri negozi di alimentari. Lidl dovrà anche provvedere a destinare all'uso pubblico parte dei parcheggi del nuovo supermercato e riqualificare l'area di Via Madonna di Campagna. Dovrà anche versare 200.000 euro in 4 anni come contributo per il Comune, che destinerà la somma al Museo del Paesaggio. I nuovi dipendenti, inoltre, dovranno essere assunti tra i disoccupati verbanesi.